Da Bontedera arrivano utili indicazioni per mister indiani, alzi la mano chi non è rimasto sorpreso dalle scelte iniziali. Ebbene il campo ha dato regione alle strategie dell'allenatore di Certaldo che ha impostato una partita aggressiva dove sono stati i ragazzi a fare la differenza in mezzo al campo Damiani e Bianchi hanno giocato una partita da grandi. Pressing, velocità e due tocchi, un mix perfetto che ha permesso alla squadra di essere sempre alta. Nella fattispecie il contributo degli esterni bassi è stato importante perché sia Montini a sinistra che Donati a destra hanno spinto con grande determinazione. Dietro molto bene Polvani che si conferma un recupero essenziale. Accanto a lui si è mostrato molto più reattivo Masetti che è andato anche a distiare il gol nella porta avversaria. Peccato che la squadra non abbia finalizzato quello che ha prodotto. Davanti ci sono dei problemi da quattro partite dovuti anche all'apponamento degli attaccanti che non hanno avuto il guizzo che ci aspettavamo. Anche Catanese in quella posizione crediamo che soffra soprattutto lo spazio. In ogni caso resta il giudizio positivo e il rammarico per un risultato che poteva essere diverso se ci fosse stata più determinazione degli ultimi 25 metri. Nota parte per Trombini che si sta rivelando un portiere più maturo della sua età.